Giuseppe Garibaldi, ex GF VIP, è stato eliminato proprio alla vigilia della finale. Tuttavia, le voci sul suo futuro televisivo sono già in circolazione. Garibaldi potrebbe partecipare al reality inglese Too Hot to Handle, un'avventura che promette amore e tentazioni su Netflix Italia. Il pubblico è impaziente di vedere Giuseppe vincere. Cosa ne pensate? Commentate qui sotto. Grazie per la visione!